Si rafforzano le competenze presso il pronto soccorso dell'ospedale a Belagiello di Mazzara. L'ASP infatti ha conferito due nuovi incarichi di alta professionalità nell'ambito del Dipartimento di Emergenza Urgenza. Alla dottoressa Rosa Piazza l'incarico di emergenze cardiovascolari e al dottor Giovanni De Simone quello di trattamento dell'insufficienza respiratoria. Entrambi da espletarsi nell'unità operativa complessa di pronto soccorso del presidio ospedaliero Abele Aiello di Mazzara.